Ciao bellini benvenuti e bentornati sul mio canale come avrete letto dal titolo e come ogni primo video del mese nel video di oggi vi voglio mostrare il mio bullet journal e ovviamente come sono andata a organizzarlo per il mese di luglio il mese di luglio l'ho dedicato al tema dell'azzurro il colore azzurro appunto mi voleva ispirare tanto in quanto non vedo l'ora di andare al mare e partirò il 2 di agosto quindi il mese prossimo poi vedremo un attimo come gestire anche la situazione dei video e quant'altro per il mese prossimo io spero di non saltare nessuno dei classici video del martedì e del venerdì ma è possibile che magari mi prenderò lo stesso una pausa di una magari settimana però comunque vedremo ma ora come sempre prima di lasciarvi al mio bullet journal e di mostrarvi tutto nel dettaglio come sono andata a organizzare questo mese di luglio vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenerlo e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video eccoci qua nella solita postazione davanti al mio bullet journal come vedete siamo sui toni dell'azzurro come vi dicevo nella parte interruttiva del video la pagina frontale rimane accanto all'ultima pagina del mese di giugno in quanto il mese di giugno aveva una settimana di soli tre giorni che sono conclusi ieri oggi è appunto il giovedì primo luglio nella pagina iniziale come avete visto ho deciso di creare una piccola vision board dedicata a tutti i giorni del mese di luglio andandoli a scaglionare appunto per settimana in questo modo è molto più semplice organizzare il tutto e andare poi a anche realizzare tutto il bullet journal sono andata poi a scrivere la scritta luglio in inglese in questo caso volevo fare una cosa un po' più diversa quindi ho scritto giulai e l'ho attaccato insieme alla vision board su questo cartoncino azzurro che poi vedrete ripetersi durante appunto il mese di luglio questa prima pagina poi ho scelto di inserire delle decorazioni floreali sono le uniche decorazioni floreali che vedrete perché nelle altre pagine ho scelto di non inserirle le ho scelte solo nella pagina frontale come intestazione appunto ho scelto queste foglie e questi fiori dalle tonalità all'azzurro all'illa al viola che secondo me stavano perfettamente bene e si sposano con il tema di questo mese nelle due pagine successive poi abbiamo un trackers generale il trackers dell'economia, youtube e poi il moodmons ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio allora sono andata con la mia graphic pen a scrivere la scritta trackers su un foglio bianco che poi ho attaccato su un fogliettino azzurro lo stesso che avete visto nella pagina iniziale e questo sarà il titolo centrale appunto che vai ad identificare tutti i trackers il primo è quello dedicato all'economia che ho selezionato scrivendo economy e poi sottolineando la parola con lo stabilo boss appunto nella corazione azzurro pastello poi ho creato tre box una per le entrate una per il fondo e una per l'uscite sono andata a ricreare semplicemente questi quadrati intorno ai vari sottotitoli uscite, fondo, entrate molto molto semplice anche se io vi devo essere sincera magari dall'immagine dalla ripresa non sarà proprio perfetto, visibile ma non sono dei quadrati per niente giusti e carini sono abbastanza vabbè, un po' pasticciati ma non importa poi abbiamo il secondo trackers quello di youtube qui sono andata a ricreare con la stessa idea di prima dei cartoncini appunto su cartoncino bianco attaccato su cartoncino azzurro che va praticamente a incorniciare tutta la scritta youtube scritta semplicemente con la graphic pen in stampato molto molto semplice molto molto minimal qui sotto poi abbiamo una vision di tutti i giorni che sono quelli in cui andrò a pubblicare il 2, il 6, il 9 il 13, il 16, il 20 il 24, il 27, il 31 sono andata questa volta a selezionarli semplicemente scrivendo il numero del giorno e poi evidenziandolo con lo stabilo boss in azzurro pastello come vedete il 2 ovvero domani è già previsto un video e per il 6 anche è già previsto un video haul sono già stati iscritti in matita perché appunto i video che ho intenzione di registrare li prescrivo a matita e poi una volta che sono stati registrati e editati li vado poi a riscrivere utilizzando la graphic pen nera passiamo al mood month questo qua è semplicemente il mio tracker delle attività che mi sono imposta diciamo di seguire di fare durante il mese di luglio in questo caso abbiamo healthy work workout contenuti e cleaning di cui healthy sta per la mia scelta di un'alimentazione più sana per migliorare l'aspetto estetico del mio corpo ma anche per migliorare la salute del mio corpo infatti ho introdotto all'interno della mia alimentazione tantissime cose che fino a qualche mese fa non mangiavo perché non mi piacevano ora diciamo che non sono proprio cambiati i miei gusti ma ho trovato modi per inserirli all'interno della mia alimentazione e quindi healthy work quindi le giornate in cui lavoro workout le giornate in cui vado ad allenarmi e in questo caso il quadratino l'ho scelto di mettere verde perché va a racchiudere due tipi di allenamento quello che posso andare a fare qui in casa come diciamo allenamento casalingo e quello che riguarda l'allenamento invece che faccio fuori casa quindi il workout nei parchi o la mia camminata di mezz'ora 40 minuti che faccio la mattina insomma in base a quello che scelgo di fare e alle temperature che ci sono fuori vado comunque a inserire workout all'interno della mia tabella che sia l'allenamento casalingo o l'allenamento fuori di casa poi abbiamo contenuti come nel caso di oggi sto andando a registrare questo video o in giorni nel quale vado a postare video vado a postare dei contenuti su instagram vado a selezionare la casella rosa contenuti cleaning invece come vi ho già spiegato in tutti gli altri video non va a comprendere solo quella che è la pulizia della mia camera la pulizia della mia casa delle abitudini di routine di cleaning ma delle abitudini di cleaning generali quindi sia delle pulizie della casa che della cleaning routine personale dedicata appunto a tutte quelle che sono le cose che io mi prefisso di fare giornalmente durante la settimana quindi che sia il giorno dello scrub che sia il giorno del peeling che sia il giorno del fango insomma cleaning contiene sia la parte di pulizia della casa che la parte invece dedicata alla pulizia personale alla skin care e a questa situazione essendo oggi il primo giorno del mese come ogni mese andiamo insieme a colorare il primo quadratino corrispondente al giorno 1 allora partiamo con healthy sono stata rigorosa e questa sera ho sicuramente una cena molto sana quindi sarà perfetta per la mia situazione di healthy quindi quadratino selezionato work oggi ho lavorato questa mattina quindi il quadratino viola va selezionato workout esattamente oggi quando finirò questo video vado a fare la mia camminata di 40 minuti così vado poi in doccia e quando ho finito di farmi la doccia vado ad editare direttamente questo video così lo vedrete subito sul canale e quindi contenuti andiamo a selezionarlo perché oggi di contenuti ne ho realizzati a sufficienza l'ultimo invece quadratino lo seleziono con questo stabilo pennarello è il stabilo pen 68 neon e vado a selezionare cleaning perché ovviamente sia la situazione skin care mattutina per ora che la pulizia della mia camera è stata fatta ho rifatto il letto ho passato l'aspirapolvere e la polvere sono stata come al solito dirigente sotto quello che è l'aspetto della mia giornata quindi nella giornata di oggi sono molto soddisfatta per aver raggiunto tutti i miei traguardi diciamo poi abbiamo l'important dates quindi una pagina dedicata a tutti quelli che sono gli appuntamenti importanti che ho allora da questo lato metto quelli personali mentre da questo altro lato andrò a mettere quelli lavorativi come nella pagina precedente sono andata a scrivere con lo stabilo pen 68 neon la scritta dates come intestazione principale come avete visto diciamo che la scritta si sfuma andando verso l'alto e poi important l'ho scritto con la mia graphic pen nera l'ho scritto come al solito in questo mio classico font in nero ed è molto classico molto semplice la griglia centrale la sono andata a ricavare da un foglio a quadretti dove sono andata a scrivere tutti i giorni del mese dall'1 al 31 ogni domenica è stata selezionata con questa riga azzurra realizzata con lo stabilo boss in color pastel blu semplicemente appunto selezionato le domeniche sia dal lato degli appuntamenti personali che dal lato degli appuntamenti lavorativi poi si procede alla classica visione giornaliera di tutti i giorni del mese e che ho fatto nel mio classico stile quindi andando a selezionare questa sottospecie di box con queste due linee di evidenziatore sempre stabilo da boss nella colorazione pastel blu poi ogni giorno ha il suo classico titolo fatto in graphic pen nera qui abbiamo giovedì 1 venerdì 2 sabato 3 domenica 4 in questa prima settimana non c'è il to do ma nelle settimane successive poi abbiamo da lunedì fino alla domenica più un to do dedicato appunto a tutte quelle che sono le mie annotazioni personali della settimana di cose che devo fare di cose che dovrei fare questo va poi a ripetersi per tutte le settimane del mese questa pagina mi si sta strappando purtroppo io spero tanto che non venga via e poi arriviamo al mese di agosto che dovrà essere completato la cosa che più mi rattristisce è che probabilmente settembre ottobre novembre e dicembre dovrò andare a realizzare su un altro bullet journal perché purtroppo questo è ufficialmente quasi pieno manca solamente giusto appunto le pagine per un mese io sono davvero molto soddisfatta del mio risultato fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti lo trovo davvero dinamico super comodo smart facile da utilizzare facile da capire eccoci tornati qui bellini come vi dicevo io sono estremamente soddisfatta di come sono da organizzare questo mese come vedete sta diventando sempre più completo il mio bullet journal mensile penso proprio che il 2022 sarà un anno boom per quanto riguarda il bullet journal infatti ho deciso addirittura di realizzare tutto il bullet journal per il 2022 nel mese di dicembre e di andare addirittura a realizzarne due uno personale e uno di lavoro poi magari sicuramente vi aggiornerò e vi mostrerò bene cosa ho scelto di fare per il prossimo anno fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete delle idee per il mese di agosto se volete vedere qualcosa di un po' di diverso se avete qualcosa da suggerirmi visto che non ho tantissime idee stavo pensando al tema delle angurie ma in realtà non ho nessuno stickers nessuna cosa in stile anguria comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete qualche idea e cosa ne pensate di come sono andato a organizzare il bullet journal per questo mese di luglio lasciate un bel pollicino in su se questo video vi è piaciuto io come sempre vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale per sostenerlo è semplicissimo vi basta cliccare il tastino rosso qui sotto ed è soprattutto completamente gratuito attivate anche la campanellina se non volete perdere nessuno dei prossimi video io vi mando un mega bacione noi come sempre ci vediamo ogni martedì e ogni venerdì sempre alle 15 qui sul canale ciao vellini a presto ciao